Un punto importantissimo in chiave salvezza, visto anche il contemporaneo successo dell'ICFutsal su campo della Fel di Eboli. La Blockstam Cisternino impatta 2-2 nell'anticipo del Palauetila contro il Latina, dopo un match molto equilibrato che ha visto i giallorossi di Gianna Andrea sfoderare una prova di cuore contro un avversario in piena lotta per i play-off scudetto davanti ad un pubblico straordinario che vuole a tutti i costi la salvezza. Prima parte della gara lenta e di studio è al quinto minuto il Cisternino a trovare il vantaggio con l'esterno al bacio di Sardella e il perfetto tapping di Edoardo che vale l'1-0. La reazione del Latina è però immediata, sale in cattedra Paulinho che prima pareggia al nono minuto e poi prima dell'intervallo porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa la squadra Pontina sembra poter reggere gli assalti dei giallorossi ma a nove minuti dalla fine Luca Leggero complice una deviazione a trovare il definitivo 2-2. Sabato prossimo la Serie A osserverà un turno di riposo e il Cisternino tornerà in campo sabato 17 marzo per la proibitiva trasferta di Reggio Emilia contro il Caos.